Disastroso inizio di 2021 per la Vispesero, Chialbenelli crolla 1-4 col Mantova e resta al quintultimo posto play-out a pari merito con Legnago. Partita compromessa sul nascere col Mantova che va sullo 0-2 grazie alla doppietta di Cheddira con l'evidente complicità del portiere Vissino Bastianello. E al ventitresimo è già 0-3 col fallo di Gennari su Cheddira che costa il rigore segnato da Guccione con lo stesso Gennari espulso per proteste. Cartellino rosso anche per il portiere Tozzo del Mantova e rigore anche per la Vis che De Feo però si fa parare dal subentrato Tosi ma Iachi ribadisce in rete sull'1-3 alla mezz'ora. La Vis rientra in partita ma affonda dopo 12 minuti di secondo tempo con la doppietta di Guccione che infila in rete un tiro cross con altra responsabilità del portiere Bastianello. Nel post partita abbiamo ascoltato il centrocampista Tessiore fra i pochi a salvarsi. Non è facile prendere tre gol in 20 minuti però è stata colpa nostra perché abbiamo approcciato la partita in modo sbagliato. Poi sono stati bravi a trovare il gol con Yassin e sembrava potessimo riaprire. Da poi secondo tempo è stato un po' più combattuto ma hanno avuto la meglio loro momenti di calo a volte all'inizio a volte dopo che purtroppo mischiate gli episodi perché oggi sono stati anche gol presi su episodio perché non abbiamo preso mezzo tiro in porta. Ci siamo fatti gol da soli e dobbiamo lavorare su questo, sulle mentalità e stare 90 minuti concentrati. Completamente diverso l'umore dell'Alma Fano che inizia l'anno alla grande espugnando 1-0 il nero e rocco di Trieste con una vittoria che fa salire l'Alma al terz'ultimo posto. Vittoria ancor più preziosa per il fatto che il Fano è rimasto in 10 sul finire del primo tempo per l'espulsione di Zigrossi. L'Alma tiene e viene premiata dal gol di Ferrara a un quarto d'ora dalla fine. Una partita sofferta molto che poi causa anche l'espulsione però il grande merito dei ragazzi che anche in 10 abbiamo cercato sempre di andare a inserire la Triestina che è una delle squadre più forti di questo campionato. Vince e consoida il secondo posto in classifica l'Ital Service nel campionato di Serie A di Calcio 5. Al palanino pizza la squadra di coach Colini batte 8-3 la fel di Eboli in una gara mai in discussione con i pesaresi in vantaggio 4-0 nei primi 12 minuti grazie a due reti di Canal, a un gol di Marcelinho e a rigore di Cuzzolino. Sul 4-1 i tentativi di rimonta dei campani sono ricacciati indietro da altri due gol di Canal, da Cuzzolino che firma la doppietta e c'è gioia personale anche per Taborda. Ora testa la Champions League con la trasferta in terra parigina. E al settimo cielo anche la Megabox Vallefoglia che sale da sola in testa la classifica della Serie A2 di pallavolo femminile grazie al successo per 3-1 sulla Conad Ravenna.